Marilena è una bambina un po' cicciottella e detesta nuotare. Tutti la prendono in giro. Marilena è una balena, Marilena è una balena. Ma il maestro di piscina saprà darle un consiglio davvero utile. Per sentirsi leggeri bisogna pensare leggeri. Vai Marilena! Può succedere a volte di sentirsi un po' bruttarelli, incapaci, sbagliati. Beh, questo è il libro che fa per voi. Per chi detesta la piscina, naturalmente. Come una lampadina che si accende quando è buio. Viva gli adulti e le loro idee fantastiche che accendono le nostre giornate.